Gli alpini di Tarzo e di Vittorio Veneto per gli alpini di Paganica. Entro poche settimane sarà consegnata e costruita una struttura completamente in legno e antisismica. Noi volevamo essere un po' i primi di portare questa struttura che come avete visto sembra una struttura molto efficiente e bella perché resiste a tutti i terremoti, ha tanti servizi, ha delle camerette, può ospitare per esempio di urgenza 120 persone a dormire e addirittura con Letti e Castello possono stare perché sono 400 metri quadri. La struttura è collaudata per resistere a scosse fino a 7,5 gradi Richter ed ha infissi e strutture coibentate che portano il suo valore a 300.000 euro. Ha una capacità di resistere ad incendi anche molto più violenti di quelli che normalmente potrebbero svilupparsi in questo tipo di strutture e quindi indubbiamente è una struttura sicura. La consegna dell'opera dovrebbe avvenire entro fine giugno secondo i piani degli alpini che fremono per intervenire con la loro generosità. Manca però l'autorizzazione definitiva del sottosegretario Bertolaso che dovrebbe arrivare ad inizio settimana. Infatti i lavori di ristrutturazione e alcuni interventi sono stati bloccati anche per l'eccesso di aiuti e materiale giunto in Abruzzo in queste settimane. A sostegno della raccolta fondi saranno distribuite 3.000 copie del volume celebrativo sulla città di Vittorio Veneto. Per le penne nere il loro animo generoso è scattato subito senza esitazione il desiderio di intervenire e farsi vicini agli amici di Paganica, una delle circoscrizioni dell'Aquila. Noi dobbiamo andare a Paganica, Paganica è gemellata con gli amici qui di Tasso, Paganica li conosciamo, io ho fatto il militare laggiù, ho fatto propaganda sistica 44 anni fa, me la ricordavo diversamente perché è cambiata. Le ferite del sisma rimarranno ma a fare da sottura ci pensa l'infaticabile solidarietà alpina, infaticabile come i loro muli.